È un film un po' sui segni ma anche sui vizi di noi italiani. Che tu sia toro leone conta poco, l'importante è ridere dei vizi e in alcuni casi anche delle virtù del popolo italico. L'oroscopo tra scettici e scaramantici risulta essere la quarta parola più cliccata sui motori di ricerca ed è proprio a partire dalle interazioni tra i vari segni zodiacali che si svolge tra siparietti e gag l'ultima commedia di neri parenti in sala già dall'11 dicembre. Che effetto abbia l'oroscopo sulla vita degli italiani è difficile dirlo, di certo si sa qual è l'effetto che ha avuto sul maresciallo Fioretti il personaggio interpretato da Vincenzo Salemme. Io sono il protagonista di uno degli episodi, sono del segno del toro, sono un maggiore dei carabinieri. Pare che il toro sia molto geloso, io sono nel film gelosissimo di mia figlia Ilaria che ha 17 anni e pur di non vederla fidanzata ne infango la reputazione agli occhi dei vari pretendenti. Dico ai vari ragazzi, ai fidanzatini, guarda che non dico mia figlia ovviamente, dico questa ragazza è una poco di buono, devo stare attento, finché il ragazzo si spaventa e la lascia. E a un certo punto però del film mi ravvedo, per fortuna. Ma tu di che segno sei è una commedia episodi che racconta le vicende di una folta galleria di personaggi composta da un cast specializzato in sorrisi come Massimo Boldi, Ricky Memphis e Gigi Proietti solo per citarne alcuni. Insomma la risata è garantita e nei protagonisti del film è possibile che molti si riconoscano come racconta lo stesso Salemme. Di solito a Natale spesso ci va anche chi non va mai al cinema, magari per passare una serata in maniera diversa, per ridere, sorridere, per trovare qualche vizio che vi riguarda da vicino, qualche difetto, qualche pregio. Grazie a tutti.